e qui un amico chiedeva cosa faccio chiudo le short sul nasdaq cioè qui è un tirare la monetina cioè capire il giorno che si gira capire il giorno in cui sono finite le ricoperture tecniche lo short squeeze i market maker che fanno il ribilanciamento della loro volatilità e man mano che sale l'indice la volatilità cala loro sono costretti a comprare questi sono tutti i movimenti tecnici che soprattutto a ridosso delle scadenze tecniche questa è una settimana tra l'altro di scadenza di opzioni anche se non è una delle scadenze principali però sono tutte situazioni che non è impossibile prevedere il giorno in cui si esauriscono questi movimenti per il momento con cosa continuiamo a vedere drift verso l'alto guardate i volumi adesso stiamo guardando il future perché guardate quelli degli amici guardano l'indice no del nasdaq noi guardiamo normalmente gli etf allora per gli amici che guardano l'indice guardiamo il future questo in tempo reale oggi un altro più 0 67 si sta trascinando verso il target qui spostiamo sto cerchietto che disegnato tempo fa ecco la quasi raggiunto ci si sta trascinando dentro 13 8 no avevamo detto che era più o meno l'area dove c'è la media la media 200 anche che scende questa è un'area di resistenza ora non c'è scritto che da qui tocca e torna indietro no però anche se non dovesse se dovesse proseguire cioè noi a un certo punto qui dobbiamo vedere i compratori che entrano come minimo cioè dobbiamo vedere un momentum che riprende a salire cioè qui stiamo facendo il nuovo massimo no con un dmi positivo più basso rispetto a giorni fa quando eravamo 12 8 quasi mille punti più sotto ok i volumi continuano a calare questo era il break di questa resistenza a 13 mila il break di questa resistenza a 13 mila non abbiamo visto movimenti particolari quindi qui si conferma l'ipotesi tecnica che questo movimento tecnico di recupero verso le resistenze quindi devo chiudere short non lo so non lo so perché ovviamente la palla non ce l'abbiamo e quindi per correttezza bisogna sempre dire che previsioni qua non se ne possono fare io però posso dirvi come rinvio al video della fine settimana scorsa se è semplice 500 break delle resistenze tecnicamente debole che questa è una fase tecnicamente debole per i motivi che vi ho detto prima perché il vix l'indice della volatilità oggi più 215 cioè ci fa vedere candela nera questo ve l'avevo l'avevo detto già un paio di giorni fa gli indici stanno facendo nuovi massimi e questo qui è già da due tre giorni che non fa nuovi minimi il vix normalmente accompagna il movimento vedete tutto il movimento di salita del degli indici è stato accompagnato da una contestuale discesa del vix ci siamo poggiati sui supporti degli ultimi mesi è vero che non c'è stato un rimbalzo ma non sta non riesce non ha finora non ha bucato fino a oggi e poi domani è un altro giorno ok quindi la fase in america rimane questa l'europa e il dax oggi più 0 15 il dax guardate la distanza media 200 gli indici americani sono quasi arrivati lì noi siamo ancora qua dietro anche qua ci sono le divergenze continuiamo a vedere candelette di debolezza quindi abbiamo visto prima una serie di shooting questo un berish engulfing anche se poi negato il giorno seguente la star di due giorni fa oggi un altro in game main non sono candele che dice domani si gira però sono tutti segnali di attenzione no ecco quindi questo il quadro sull'equity direi che per il momento non ci dà sostanziali novità dal punto di vista tecnico quello che sta accadendo sugli indici americani e l'opposto di quello che per esempio sta accadendo sul petrolio dove stanno chiudendo un sacco di posizioni long la speculazione era molto sbilanciata rialzo e qui abbiamo visto la famosa trivellazione di area 94 che poi c'è stato il break a ribasso agli inizi di agosto pullback anche lì un amico diceva perché 94 e guarda dove si è fermato il rimbalzo questo qui no cioè dopo che siamo andati giù a 86 94 al tic cioè sono 94 e qui da chi segue lo sa sta qua da mesi forse eppure sono dei livelli che poi i mercati vanno a rivedere allora qua oggi ora segniamo meno 3 per cento oggi segnavamo anche meno 4 sembra ripresa la via della discesa qua però c'è una situazione tecnica opposta con un quadro tecnico che qua sta chiaramente cambiando perché qui siamo già andati sotto la media 200 abbiamo già attestato la media 200 dal basso quindi c'è una differenza molto importante rispetto rispetto alle altre situazioni quindi da seguire perché qui come avevamo visto nel un po di video fa il uno dei target di medio termine medio termine non vuol dire che ci va domani mattina e area 65 quindi ci sono spazi interessanti se questo quadro tecnico di inversione dovesse confermarsi questo è questo è da seguire poi chiaro queste sono commodities che in questo momento sono soggetti a fattori esogeni no ci abbiamo una crisi geopolitica che coinvolge in pieno petrolio e gas quindi può succedere qualsiasi cosa se dovessimo vedere il recupero di 94 avevamo detto nel video 98 no però adesso diciamo dopo la formazione di questo top a 94 sarebbe già un segnale bullish il fatto se i prezzi dovessero portarsi sopra 94 quindi sempre piano b è proprio perché certezze non ce n'è allora se andiamo sopra 94 allora ne riparliamo ma fino a quel giorno cioè questo qui ha bucato la media 200 quindi attenzione un altro amico chiedeva del gas e il gas chiedeva del gas liquefatto il gas americano e questo è condizionato dal gas europeo perché perché se nel gas europeo le forniture qua vengono interrotte dove siamo oggi gas europeo ttf questo è il future sul mettiamo il grafico a linea perché le candele qua non ci sono guardate ancora aperto stiamo andando sul massimo storico qua se chiudono i rubinetti si prezzi schizzano verso l'alto e si tira verso verso l'alto anche il gas americano ok quindi qua l'analisi tecnica ci dice fino a un certo punto comunque adesso torniamo sulle candele questo è il gas che stavamo vedendo siamo su dei livelli di resistenza dove negli ultimi settimane negli ultimi mesi i compratori qua sono sempre venuti fuori e sono venuti fuori senza esitazioni guardate questa shooting guardate questo bearish engulfing qui con un reversa una evening star da manuale tweezertop bearish engulfing cioè questo fino ad oggi questa è stata un'area dove prima o poi sono venuti fuori i venditori ora verranno fuori anche questa volta però siamo su un'area di resistenza quindi bisogna sempre tener presente dove ci troviamo altra richiesta va bene usciamo dalle commodities usciamo ora dai commenti generali sugli indici comunque giornata oggi per certi aspetti ancora di prosecuzione del dei movimenti degli ultimi giorni continuate a seguire perché questa settimana abbiamo dati economici importanti oltre alle scadenze tecniche di venerdì che può darsi vengano risolte prima perché molto spesso queste posizioni non è che si aspetta il venerdì per risolverle cioè può darsi che tra mercoledì giovedì già abbiamo chiuso la maggior parte di queste sistemazioni tecniche che sono sembra che siano in corso allora un'altra richiesta veniamo al listino italiano tra l'altro oggi chiuso per la festività l'unico chiuso gli altri soluti aperti un amico chiedeva di sugar frames sugar frames relativamente semplice perché aveva un livello importantissimo a 6 e 5 che aveva rotto nel mese di giugno un livello che aveva fatto da supporto in precedenza tante volte di ver questo era un vecchio livello di resistenza qui settembre 2021 rotto a rialzo testato ripartito verso l'alto quindi 6 e 4 molto importante altri due test qui nel nel corso di quest'anno troppo tempo qui sotto un minimo arrotondato ma troppo tempo attenzione questa cosa qui mi fido non mi fido ora poi questo c'è stato un break a rialzo siamo tornati sopra quindi la situazione è relativamente semplice dal punto di vista tecnico l'amico deve tenere d'occhio 6 e 5 ecco non vogliamo vedere prezzi che tornino tornano qua sotto tornano a ingaggiare quest'area che sembrerebbe un bel minimo arrotondato da qui potrebbe partire una struttura rialzista da monitorare magari con una un canale di regressione no ora è troppo troppo presto troppo corto però vorremmo vedere la formazione massimi decrescenti eccetera eccetera volatili stop line che cambia colore perché perché qui siamo comunque sotto la media 200 che sta cambiando pendenza quindi ho questo quadro tecnico viene mutato rapidamente mutato mutato poi non vuol dire che si riparte di nuovo col bull market perché poi molto spesso l'appiattimento della media 200 lascia aperto tenete presente che esiste anche questo scenario cioè lo scenario dove poi la media 200 da brava media è una media si appiattisce e abbiamo poi una serie di movimenti che si portano al di sopra e al di sotto cioè non è che tutto è sempre bull market o bear market quindi ecco questo è quello che mi sentirei di dire quindi attenzione a questo importante livello di 64 per il resto i segnali di breve sono promettenti tenendo comunque sempre presente che abbiamo appunto violato supporti importanti nelle settimane passate e anche questa permanenza sotto 64 per tanto tempo ecco non è un non è un fattore di per sé positivo quindi bisogna guardare con con non con sospetto ma diciamo con prudenza a questi segnali bullish che devono trovare delle conferme nelle prossime settimane va bene direi è tutto per oggi ci aggiorniamo domani lasciate come sempre nei commenti la segnalazione di eventuali situazioni interessanti così poi le guardiamo assieme nei prossimi video per il momento grazie per l'attenzione buona serata a tutti